Rossato realizza sistemi integrati per il comfort. In questo esempio mostreremo come riscaldare, raffrescare, produrre acqua calda sanitaria e ricambiare aria, limitando i consumi e ottenendo un elevato comfort. Una soluzione alla portata di tutti, adatta per ogni tipo di appartamento, anche in caso di poco spazio disponibile. Nella stagione invernale riscalderemo l'abitazione con i fan coil a bassa temperatura ed una pompa di calore ad incasso salvaspazio. Dallo smartphone o da remoto si attiva l'impianto e si aziona la pompa di calore, che alimenta i fan coil. L'aria calda si diffonde in ambiente e si raggiunge gradualmente il comfort desiderato. Nella stagione estiva la pompa di calore inverte il suo ciclo di funzionamento, l'acqua refrigerata viene distribuita a tutti i fan coil e progressivamente la temperatura e l'umidità in ambiente si abbassano fino alle condizioni di comfort. La pompa di calore consente in tutte le stagioni la produzione di acqua calda sanitaria, con un elevato risparmio energetico senza usare il gas. Il sistema di ricambio d'aria puntuale garantisce aria fresca e pulita in casa, senza aprire le finestre e senza disperdere energia, ed evita la formazione di cattivi odori, muffe e condense. Azionando la ventilazione meccanica controllata, l'aria prelevata dall'esterno attraversa lo scambiatore che la riscalda o la raffresca in funzione della stagione e infine la filtra prima di immetterla in ambiente. L'aria esausta viene poi estratta dalle altre unità di ventilazione meccanica puntuale, che recupereranno l'energia termica dell'aria che verrà di nuovo ceduta in ambiente nella successiva fase di missione. Affidati a Rossato, i professionisti del comfort. Grazie a tutti. Grazie a tutti.